Samuel Stern numero 22, storia di un angelo tra relazioni tossiche e la battaglia per il destino dell'umanità. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, continuiamo a parlare di fumetti italiani, continuiamo a parlare di Samuel Stern, il nostro libraio di Edimburgo, che nel tempo libero ha la passione di esorcizzare i demoni che si celano nell'animo umano, i demoni che vengono creati, generati dalle ombre che l'uomo sviluppa con tutti i sentimenti negativi che può sviluppare durante una vita o a causa di un trauma, odio, maltrattamenti, lutti, qualunque cosa. In questo universo i demoni nascono proprio dall'uomo, come piccoli tumori, come figli che non si vogliono, ma una volta sviluppati possono tornare nel loro inferno e ritornare sulla Terra esattamente come la mitologia classica a quale siamo abituati ci ha insegnato. In questo numero si parla non tanto della mitologia generale di Samuel Stern, ma si parla proprio di un angelo, si parla di un personaggio che abbiamo visto, intravisto in realtà nel numero 4 di Samuel Stern, uno dei primissimi numeri, e già lì c'era il sentore che c'era qualcosa di angelico in questo personaggio e abbiamo rivisto, dopo tantissimi numeri di assenza, appena il mese scorso nel numero 21. Sto parlando del personaggio di Isobel. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ne vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono state possedute da un angelo e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo numero, di questo personaggio di Isobel ed in generale dei miei video. Vi ricordo sempre che anche tutti gli altri miei social che vedete passare qui sullo schermo li trovate qua sotto in descrizione su link cliccabili. Cominciamo col parlare dalla copertina di Samuel Stern, di solito non lo faccio mai, io comunque mi concentro solo sulla mia Instagram TV quando parlo di storie, quando parlo di disegni, qua mi concentro solitamente sulle storie, ma qui voglio parlarne perché innanzitutto mi piace tantissimo, ma poi perché è liberamente tratta dall'iconografia dell'arcangelo Michele che calpesta il demone. È una iconografia che a me sta particolarmente impressa perché tra tutti i vari angeli che ho visto durante la mia crescita in parrocchia, Michele è quello che ha in mano una spada, che calpesta il demone, insomma è quello che fa un po' di iulenza e quindi rimane facilmente in testa a un giovane ragazzo. Qua al posto del diavolo abbiamo Samuel Stern, quindi potrebbe essere un indizio abbastanza palese sulla parte che prenderà Samuel Stern nello scontro prossimo dei prossimi numeri, ma anche perché sarà chiaramente in contrapposizione a padre Duncan, come stanno già cercando di farci capire Filadoro e Saveniago. Però questa storia di per sé parla totalmente del personaggio di Isobel e Samuel Stern, come noi, è spettatore in questa vicenda. Vediamo la storia di Isobel in un gioco tra passato e presente, dove i suoi flashback ci raccontano come è nata la sua possessione angelica. Tra l'altro, se siete interessati a possessioni angeliche, vi consiglio di guardare il mio video che parla di Dillandog Oldboy numero 6, dove c'è la storia di esorcismi, dove Dillandog risolve, diciamo, esorcizza una possessione angelica. Questo numero è colmo colmo di citazioni musicali, di canzoni, di colonna sonora portante che potete ascoltare mentre leggete il numero. Se siete interessati, qua sotto in descrizione vi metto tutti i brani che hanno citato in questo numero, così li tenete come playlist in sottofondo mentre lo leggete. Isobel è bellissima, una ragazza bellissima dentro e fuori. È una ragazza che è cresciuta con l'amore dei genitori, che gli hanno dato solo che amore, ed è cresciuta anche però con il dolore della perdita, in giovanissima età, della sorellina minore. Questo fatto è chiaramente la spinta fin da subito a prodigarsi per fare del bene al prossimo, tant'è che noi nell'inizio del flashback di Isobel vediamo che lei sta preparando le valigie per andare all'università per studiare medicina. Si congeda tra le lacrime da sua madre per andare, diciamo, a imparare una professione che le permetterà di salvare tante altre persone laddove non è riuscita appunto a salvare la sorellina minore, quindi anche un po' di senso di colpa cattolico presente in questo personaggio. Sulla sua strada a un concerto degli Oesi si incontra Jamie, che è un aspirante musicista, e qua, nel momento in cui incontra Jamie, non assistiamo più tanto alla crescita professionale di Isobel nella medicina, ma alla storia d'amore con questo personaggio Jamie. E vediamo in questo numero due storie parallele. La prima, la storia del presente, in cui questa Isobel, attualmente posseduta dall'entità angelica Uriel, cerca di sgominare l'ennesimo posseduto che rischia riportare un'eresiarca su questa terra. Un'eresiarca nell'universo di Samuel Stern è appunto un demone antichissimo, nato da qualcuno nell'antichità, che si è sviluppato molto bene, è finito nell'Inferno dei Demoni, conosciuto come Legione in questa mitologia sterniana, e sta cercando di ritornare attraverso un portale che è condotto da questa persona che si chiama Ambrose. E vediamo quanto gli angeli non abbiano assolutamente mezze misure, non abbiano tolleranza verso le gradazioni di grigio che albergano l'animo umano. Mentre nel passato assistiamo appunto alla crescita della relazione tra Isobel e Jamie e vediamo fondamentalmente una metafora di quella che è una relazione tossica. Una relazione che nasce con le migliori intenzioni, quindi dove tutte e due sono presi l'uno dall'altro, dove tutte e due sono interessati alla vita dell'altro, dove tutte e due sostengono gli obiettivi, i sogni dell'altro, ma poi ci si mette di mezzo la vita, le difficoltà, ognuno è stanco, ognuno è spossato, ognuno è sconfitto e non ha la forza né per sostenere se stesso, né tantomeno per sostenere il proprio partner. E quando questo succede, le strade sono due. O ci si arriva a un connubio, a una mediazione, a un cerchiamo di risolvere insieme quello che ci fa star male entrambi, oppure ognuno si rifugia in se stesso e si arriva allo scontro. Qua vediamo che Jaime è sempre più distante da Isabel. Isabel e Jaime hanno obiettivi totalmente diversi. Per qualche ragione Isabel, nonostante stia ancora studiando medicina, mi sembra un po' forzata come cosa, ma ci sta, nonostante stia studiando ancora medicina, il suo principale obiettivo con Jaime per il loro futuro è di avere un bambino, di costruire una vita insieme a Jaime, di costruire una famiglia insieme a Jaime. Ci sta perché comunque Isabel è un personaggio che viene da una famiglia amorevole, viene da una famiglia che ha perso una bambina, la sua sorellina, e quindi ci sta che lei abbia questa sorta di desiderio, questo istinto di avere di nuovo una bambina per la casa a cui va dare. È un po' anacronistico perché mi sembra più probabile per una persona che sta studiando una facoltà così difficile come medicina che voglia avere un bambino ancora mentre sta studiando. Però appunto, non avendo mai studiato medicina, ne avendo un utero soprattutto, non posso capire questa cosa. Quindi do per scontato che vada bene in questa storia. D'altro canto, Jaime è il classico maschio che è tutt'altro che uomo, nel senso è un ragazzo che insegue ancora i suoi sogni di musicista. Tra l'altro, quando all'inizio del loro flashback vediamo che ottiene un contratto discografico, non ti dà l'idea che sia un ragazzo che insegue un sogno inarrivabile. Ti dà l'idea di un ragazzo che comunque sta avendo una possibilità, la sta portando a frutto. Però poco dopo questa possibilità viene infranta dal fatto che appunto gli recedono il contratto, e qui assistiamo al classico baratro di una persona che appunto ha dei sogni magari più grandi dell'impegno che ci vuole mettere, dei sogni più piccoli della sua, diciamo, poca fiducia in se stesso. Unita al fatto che nel frattempo Jaime, che aveva allontanato il padre, su suggerimento di Isobel stessa, che gli ha proposto di rinconciliarsi con il suo padre allontanato, ha appunto sviluppato un rapporto di amicizia con il proprio padre, che è tutt'altro che costruttivo, perché il padre di Jaime, alcolista, giocatore d'azzardo, sta trasformando Jaime nella stessa cosa. Tutti questi elementi portano Jaime a sviluppare un'ombra che noi ben conosciamo, sappiamo che un'ombra di quel tipo può trasformarsi in un vero e proprio demone che parla nell'orecchio di Jaime e lo potrebbe portare a fare qualcosa di veramente brutto. Per esempio, stiamo assistendo a una possibile violenza domestica. Quello che però non avevamo mai visto in venti numeri di Samuel Stern è il fatto che, in contrapposizione alla nascita del demone che c'è all'interno di Jaime, vediamo anche la nascita, non credo che gli angeli nascano dalle persone, ma comunque assistiamo alla possessione di Isobel da parte dell'entità angelica Uriel, molto probabilmente perché Isobel è una persona che non ha assolutamente dentro di sé il minimo odio, ha solo compassione, vuole salvare il mondo, vuole salvare gli altri, vuole salvare sua sorella, vuole salvare anche Jaime. Qua c'è una frase importantissima che è fondamentalmente la frase più importante da tenere a mente in tutti i campi, in tutti i rapporti, dalla relazione amorosa all'amicizia, eccetera, puoi davvero salvare qualcuno che non vuole essere salvato? Messa di fronte a questa domanda, messa di fronte a questa scelta, Isobel capisce che Jaime fa parte di quelle persone che non vogliono essere salvate dal proprio baratro e quindi accetta, diciamo, di essere posseduta da questo angelo e diventa fondamentalmente una combattente per questa grande battaglia che si sta svolgendo tuttora nel presente. Vediamo che quando Isobel tocca una persona posseduta, lo abbiamo visto nel flashback con Jaime, lo abbiamo visto anche nel presente con questo satanista che ferma per chiederle informazione, che se lo tocca, lo epura dal male, gli toglie la possessione demoniaca, ma a differenza di quanto fa Samuel, che si limita a mandare il demone in legione, nell'inferno dei demoni, Isobel ammazza l'ospite. Quindi fondamentalmente, come Samuel Sterna stesso dice, non mi interessa da che parte stai, se fai questo per me rimani un'assassina. Mi sembra un po' tirata per i capelli la scena in cui Ambrose viene accidentalmente pugnalato, accidentalmente viene sgozzato in una collutazione che coinvolge Samuel, è uno degli adepti di Ambrose, e questo interrompe, nata a volta, interrompe l'ascesa di un'eresiarca. Quindi per l'ennesima volta questo eresiarca, questo pericolo imminente sta arrivando, ma viene troncato per concentrarci di più sulla storia singola. Ecco, è un espediente che è già stato usato, è un po' tirato per i capelli, piuttosto avrei preferito che Isobel avesse volontariamente sgozzato Ambrose, avrebbe avuto più senso che non una colluttazione casuale. C'è anche una vaghissima metafora, sempre nel personaggio di Isobel, su quel tipo di persone, più di quante non ce ne aspettiamo, che nel momento in cui sono convinte di detenere la verità assoluta, diventano intransigenti verso tutto ciò che non è quella verità. è molto comune nella religione, nelle persone fanatiche, non mi riferisco ai sacerdoti, mi riferisco di più a quei fanatici magari un po' ignoranti, che non conoscono neanche tanto bene la propria religione, e che di quelle poche informazioni che hanno le difendono a spada tratta, sputando anche merda su chi non la pensa come loro. Quindi parlo di fanatici religiosi cattolici, ma fanatici religiosi di qualunque religione, anzi, purtroppo, le cronache di questi giorni, senza che nominiamo cose troppo aperte, perché poi non voglio che questo video invecchi troppo in fretta, ma assistiamo sempre a fanatici religiosi di altre religioni che ammazzano le persone che non seguono la lettera, la dottrina, come la vedono loro, purtroppo è ancora tuttora all'ordine del giorno, è triste in una parte del mondo dove però non è una giustificazione, ma non si hanno neanche le possibilità per espandere la propria mente, è un po' più triste in un posto come il nostro, che è in teoria, è abbastanza evoluto, è abbastanza informatizzato da permettere virtualmente ad ognuno di accedere a qualunque informazione e espandere la propria mente. Ciò nonostante, vediamo ancora dalle persone relegate nella loro piccola, 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 piccola mente, e va benissimo così se si trovano bene, se si trovano a loro agio nella loro clausura mentale, va un po' meno bene quando dalla loro clausura mentale si mettono su un piedistallo e giudicano le persone che, uno, non la pensano come loro, e due, non sono interessate ad aderire al loro pensiero, e quindi cade anche il giudizio stesso, e questo vale per i talebani, vale per la Chiesa che sostiene che certe leggi siano pericolose per l'umanità perché contrastano con il loro pensiero religioso, quando comunque tutti, non tutti, sono religiosi, allo stesso modo, vale un po' per tutti, vale anche per pensieri non religiosi, e le religioni possono essere tante, noi che siamo in un ambiente nerd sappiamo benissimo quanto possono essere tossici certi fandom, la DC Comics, la Marvel, l'MCU contro la trilogia di Sam Raimi, i primi cento di Dylan Dogg, Doctor Who, eccetera, 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 tutte queste religioni che non sono altro che una... gli Ultra, perché mi piace dirlo, gli Ultra che sono un'altra religione, tutte cose che sono scuse e diventano scudi per quelle persone che si sentono inesorabilmente sole, senza qualcosa che li faccia aggregare ad un gruppo, e che nel momento in cui sono forti del gruppo di cui fanno parte approfittano per tirar fuori gli artigli, come un piccolo chihuahua che non si rende conto di essere piccolo, o forse se ne rende conto, ma vuole far sapere a tutti che è grosso e pericoloso e abbaglie e morde tutti gli altri. Finita la metafora degli spunti che ho trovato in questo numero, concludiamo il video tornando sulla storia principale, Samuel Stern ha un contatto diretto con Isobel grazie a un medaglione che le ha strappato di dosso nel numero scorso, ma questo idilio è già finito perché Isobel se ne accorge e se lo riprende, quindi Samuel Stern non riuscirà più a trovare Isobel con lo stesso espediente, espediente che è stato molto comodo in questo numero, quindi in un certo senso sono felice che non verrà ripetuto più avanti. Ok, un'ultima postilla che vorrei chiedere anche a voi, secondo voi cosa ha visto Samuel Stern a pagina 82? Quando ha toccato Isobel, perché anche quando tocca una posseduta angelica riesce a entrare in contatto con lei, anzi forse anche più in maniera differente che con i posseduti demoniaci. Samuel Stern ha visto questa figura a pagina 82. Secondo voi che cos'è? Questa figura è l'eresiarca che da lì a poco sarebbe arrivato sul nostro piano attraverso Ambrose, che però vi mostro ha questo aspetto che a me non sembra l'altro aspetto in via di sviluppo, sembra un aspetto totalmente differente. Oppure questo è l'aspetto degli angeli? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Secondo me si scoprirà che angeli e demoni in questo universo non sono poi così tanto distanti gli uni dagli altri, non sono poi così tanto dissimili e potrebbero avere magari un'origine comune. Chissà cosa ci sarà sotto. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, soprattutto alla luce anche di tutti i miei sproloqui personali, esclusivamente personali, su quello che io traggo sempre a livello metaforico dalle storie dei fumetti che leggo. Come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.